Vi presentiamo lo scanner Avision AV176U. Grazie all'ingombro ridottissimo è perfetto per uso personale e professionale. Si posiziona facilmente sulla scrivania e garantisce prestazioni davvero al di sopra della media. Ha un alimentatore da 50 fogli che grazie alla qualità della meccanica è in grado di alimentare carte di qualsiasi spessore, dalle copie su carta chimica ai cartoncini fino a 400 grammi al metro quadro, oltre che documenti lunghi e carte plastiche. Inoltre è dotato di sensore ultrasuoni che consente di segnalare se avvengono prese multiple. Dotato di ottica duplex, scansiona il fronte e il retro dei documenti in una sola passata ad una velocità di scansione di 30 pagine al minuto sia che si scansiona in bianco e nero che a colore. Come tutti gli scanner Avision, AV176U è fornito di driver Twain, WIA e Isis e quindi può essere utilizzato con qualsiasi applicazione presente sul mercato. A corredo vengono forniti software Aviscan, Paperpot e Avision Button Manager che consente di utilizzare lo scanner semplicemente premendo il pulsante Scan. I documenti verranno scansionati nel modo e col formato prescelto e quindi memorizzati in locale o remoto, server o cloud. AV176U vi permette di smaterializzare i documenti senza muovervi dalla scrivania e senza interferire col lavoro dei colleghi. Chiedetene il prezzo, avrete una piacevole sorpresa.